Buongiorno ragazzi, siamo qua allo studio di Tiamo Voce di Milano con una stella. Come dice la maglietta dietro è nata una stella, Nicolò Zanellato. Grazie che sei venuto. Di niente, grazie a voi, è un piacere. Seguo il podcast come fan con i miei compagni, prima a Crotone e poi a Ferrara. Siamo dei grandi supporter, diciamo. Grazie mille, siete gli unici tra l'altro. Eh, ma adesso lo porteremo piano piano. Allora devi cambiare squadra ogni anno per aumentare il target. Ragazzi, Nicolò fa quello che io volevo fare nella vita, il calciatore. E penso tanti anche di voi. Gio no, perché Gio voleva fare... Mi hai passato per la testa. Tante altre cose, ma il calciatore... Nooo. Ma dovevi saperla tutta? Io volevo fare l'ormeggiatore da bambino. Sì? Sì, perché c'è questa gente che sta sul gommone 12 ore al giorno. E per me quello era il massimo. Fai quelli che ci portano... Eh, lo so, zi. Ma hai visto che colore c'hanno la pelle? Eh, ho capito. No, no, no. Sono un po' un altro che... Il mio crotone... Carlo Conte è iniziato così, eh? Ah, la Carlo Conte. Carlo Conte è iniziato così. Io ci metterai sei anni probabilmente, però potrei arrivarci. Il primo è stato l'ormeggiatore. Poi non mi ricordo. Beh, lui ha giocato a rugby da piccolo. Al contrario di tanti, che ha fatto calcio, lui ha giocato a rugby. Vabbè, ho fatto... Era che il calcio a volte è sopravvalutato. 8 anni, 10 anni, più o meno. No, no, poi io avevo un'influenza familiare, che mio nonno giocava a rugby. Mio cugino ha giocato a livelli più alti dei miei. Quindi... Sì, in particolare comunque. Ero l'unico assetto che conoscevo che giocava a rugby. In Italia, comunque, il mindset è... Fai calcio, hai gli amici del calcio, ti crei la comunità del calcio. Ecco, per esempio, in Francia è una figata perché sono lì, lì, eh. Rugby e calcio? Eh, sì. È molto... Cioè, il calcio del rugby è molto del sud della Francia. Ok. Però comunque, cioè, non ti dico che è più seguito, però... Da quello che ho capito, tra l'altro il campionato francese non è che sia così entusiasmante. Beh, si sta un po' rivalutando. Si sta un po' evolvendo, diciamo, però... Rispetto magari agli altri top campionati, sì, esatto. Se tu fossi... Infatti... E tu sei un giovane, ma se tu fossi un giovane tipo 16-17 anni, andresti a giocare in Ligano o in Bundesliga adesso? Ma, come hai detto tu, io non sono più giovane, perché... No, beh, sei ancora giovane. Sì, giovane, però adesso come... Vanno più di moda i ragazzi dai 16 ai 18 anni, ecco. Quindi già a 23, io non a 23, sono già un vecchietto. Però andrei a giocare in Bundesliga, ti dico la verità. Perché è più opportunità, è un calcio più voluto e, insomma, i giovani giocano come fossero dei veterani. Cioè, ci sono ragazzi che hanno 17 anni. Bellingham. Sì, parliamo di giocatori fenomenali che hanno già fatto 100 partite, quindi andrei lì anche se la Ligana rispetto all'Italia, insomma, è un po' più favorevole per chi è giovane. Però anche qua in Italia, soprattutto, sai, in Serie B, dove sto giocando io, è più propenso a far giocare i ragazzi che escono dalle primavere. Beh, ma non puoi pensare che tutti i giocatori che escono dalle primavere... Cioè, io ho sempre pensato che l'esordio in prima squadra è un lancio di moneta. Cioè, ne parlavo anche di Dani e dicevo... Cioè, l'occasione ti va bene. Esatto, cioè, se tu fai quelle due partite che vanno bene, allora poi sei in fiducia, la squadra allora investe su di te, eccetera. Se tu già fai una partita, la fai bene, poi magari ti fai giocare dopo due settimane, fai un'altra, non tanto così, è più difficile. In Serie B tu hai il tempo e l'opportunità di crescere. Sì, diciamo, c'è anche meno pressione. Anche se ti dico... Eh, però la pressione cittadina della Serie D, minchia, è pesante. Quella sì, poi ti vengono a prendere. È più diretto il contatto, quasi. Sì, sì, sì. Sai, anche se ti dico, fare l'esordio in prima squadra... Giorno? Eh, allora, 4 aprile, se non sbaglio, non vorrei dirti una cazzata, adesso non me lo ricordo esattamente. Io, quando esordito in Serie A, ho esordito con il Crotone. Inghia. A Torino. Non lo ricordo ancora, che il mister mi aveva togliere dopo 20 minuti, che scivolavo sempre. Avevo le scarpe a 13. No. No, era Zenga. Zenga. Era Zenga. e mentre col Milan avevo giocato in Europa League una partita, è stata un'emozione... Con la maglietta nera. Bravissimo. Con la maglietta nera. Eravamo tipo in Macedonia, adesso non mi ricordo esattamente dove. Però ti dico, a volte l'esordio in prima squadra è un po' sopravvalutato. Cioè, se fai 5 minuti, è più una soddisfazione tua. Eh sì, è il compimento di un sogno che in verità ti accorgi dopo 5 minuti di essere il primo tassello. Cioè, cambia proprio il punto di vista. Esatto, esatto. Magari è più un premio che ti dà la società, il mister, se ti alleni bene. Però di per sé, come valore per un giocatore, è meglio fare un campionato in Serie B o in Serie C. Certo. Con continuità, piuttosto che fare 5 minuti. Sì, con la squadra che punta su di te, che sei titolare. Esatto, esatto. Però comunque, sai, è meglio farlo che non farlo, no? Minchia. Minchia, minchia. No, dai, per te che sei milanese, milanista, comunque tuo papà ha anche giocato nelle giovanili anche lui. Esatto. C'è un sogno, posso dirti un sogno. Certo, è stato bello. Anche tutti i miei amici, insomma. Anche perché era una squadra in cui tu avevi anche dei tuoi amici gran cresciuti con te all'interno di quella rosa. Certo, certo, certo. Che annoi erano? 2017-2018? Sì, e c'era Gabbia, mi ricordo, che ancora adesso gioca. E poi c'erano altri ragazzi, vabbè, Cutrone, Locatelli, loro sono rimasti sempre in contatto con me, ci sentiamo sempre, ma in generale eravamo un bel gruppo. Io faccio sempre le vacanze con i miei ex compagni di primavera che magari hanno fatto adesso cose differenti. Uno fa l'ormeggiatore. Beh, Judica. Non giochi sempre con Marco Judica. Sì, sì, con Judica, la Ferrara. Sai, fanno tutt'altro, però siamo rimasti amici. Vabbè, la figata del calcio. Poi tu li conosci perché ci vecchiamo sempre. No, in realtà, nel risorgimento eravamo io Lambe, dico di Lambe, quello che gioca con me, Mancino, mi fa ma perché sei venuti qua? Eh, niente, devo beccare i carnichi. Ma zanellato. Ma vai tranquillo, guarda, ci vediamo sempre l'estate, sto male. Lui ormai è abitando via da cinque anni, quattro anni. Eh sì, ormai sono quattro anni a Crotone più adesso a Ferrara. Io nel mio piccolo gioco anch'io, quindi... Io li guardo sempre i suoi video, con i tifosi dietro che esultano. Io che sono la Parigi faccio, mandami i link così me le guardo che poi è divertente, è una bomba. No, è bellissimo, la coseria, la curva dietro. Io conosco anche l'attaccante vostro. Licia? O Ricupati? Lo conosco, perché... Ciao Pippo. Salutiamolo, io al mare l'ho conosciuto, è un bomber, giocava in America o no? Ma io vi seguo sempre quando apro Instagram così. Ci dobbiamo salvare, Niki. Sì? Domenica contro il Pavia, scontro per salvarsi, chi perde, probabile play out. Ragazzi, ci hanno già detto, no, il Pavia, fanno i casini se perdono, entrano in campo, gli ultras. Ma ragazzi, mi sembra un'eccellenza, ma stiamo calmi, oh, vogliamo la camionetta fuori. No, il pullman voglia davanti. La polizia davanti. Beh, una volta, una volta hanno fatto irruzione gli ultras contro, mi sa, la Vogherese, dentro il pochettore c'era tutta la polizia. Sì? Bello. Beh, tu sei nell'altra squadra se ce l'hanno contro i propri giocatori. Queste sono cose da raccontare. Queste sono le robe del calcio italiano, delle minors. Le minors, viva le minors. Ma io mi ricordo che mi avevi detto che avevi pensato anche di smettere. Sì, no, volevo, dopo il covid, non so. Beh, voi avete sempre continuato. Sì. Noi che comunque non era un campionato nazionale prima del covid, lo è diventato dopo il covid perché comunque c'erano degli interessi economici altissimi e le società spingevano giustamente per gli investimenti fatti. Siamo diventati nazionali però il fatto è che la nostra società non ha accettato di fare il torneino e quindi di riprendere direttamente l'anno dopo. Mi ricordo che non l'anno sì, cos'era marzo? Sì, dai febbraio a giugno tipo, dieci partite erano. Noi non l'abbiamo fatto quindi io comunque era un anno che praticamente non giocavo. Sai come gli interessi possono variare a seconda delle circostanze quindi in quel momento lì mi sentivo di andare avanti col podcast, con l'università un po' in modo serio e tralasciare un po' il calcio comunque poi non ho intrapreso quella strada per vicissitudini vari e se ringrazio perché quest'anno ho fatto una bella stagione sono contento. Ho trovato il compromesso perfetto. Ma sai che anche a livello alto tanti calciatori hanno subito fortemente questa roba qua? Cioè quello che tu mi racconti lascia stare vabbè l'esempio più eclatante è Ilicic che sai che è depresso e ha pensato veramente di smettere ma anche a livello nostro cioè ci sono ragazzi che si sono infortunati e non hanno potuto poi riprendere fisioterapia e quindi hanno veramente pensato di smettere di sai serie B comunque serie C non sei a livelli top e quindi hanno seriamente pensato di fare altro quello che mi hai raccontato tu infatti ci pensavo l'altro giorno è successo anche le circostanze cioè comunque se tu fai è un sacrificio fare il cioè la cosa che la gente non capisce ma che io ho per fortuna o no ho capito e quindi ho deciso di non fare sono tutti sacrifici la tua categoria è l'ultima dove tu puoi permetterti credo già dalla serie D sono cinque allenamenti fissi diventare possibile fare altro studiare cioè serie D è quasi come Lega Pro ma non sei professionista quindi ci sono magari gente della Lega Pro che va in serie D per tasse o robe che comunque scarica e c'è gente che invece dalla serie D vuole salire per ambizione personale comunque Gio veramente è un sacrificio che molti non è perché tu guardi la domenica ma tutto il resto dell'anno c'è tipo ieri Pasquetta la gente che grigliava io a vedere le storie su Instagram cazzo c'erano 30 gradi a Ferrara 12 e mezza abbiamo giocato una roba veramente questo è brutto poi tante altre diciamo classi positivi che insomma tra cui anche inseguire il proprio sogno è per quello che poi fai sacrifici ma la cosa più bella Tommy è l'adrenalina prima della partita cioè io ti giuro vivo per quello per me quante volte l'adrenalina è sfociata in caghetta quasi c'hai sempre un po' di paura perché è la verità soprattutto quando giochi per i punti giochi per insomma le partite vere importanti c'è sempre un po' di tensione e paura poi la impari a gestire nel corso del tempo più diventi grande più giochi partite più è tra virgolette memoria anche fisica affrontarla anche perché poi una partita è più o meno sempre uguale quindi ci sono momenti di difficoltà momenti più facili ecco io una cosa che ho notato un sacco vabbè nella mia categoria è quasi sempre così nel momento in cui non prepari una partita è penso o comunque non sai come porti in campo perché non è un sistema rodato comunque non sai come sono gli avversari eccetera lì è il momento per me più brutto per un giocatore ti senti perso completamente e quindi inizi a correre inizi a sfasare cioè è proprio brutto nel momento in cui sei messo in condizione di far bene è la cosa più bella di tutto no quello è bello sei preparato ti senti superiore non vai mai in difficoltà senti gli avversari che si chiedono ma cosa dobbiamo fare qua perché si muovono in un modo si muovono in un altro accorgimenti di qua di là diventa diventa difficile diventa entusiasmante per la squadra perché pensi di poter far gol in ogni momento qual è l'elemento che crea più di tutti questa coesione di squadra e poi di giochi in cui 90 minuti perché alla fine il tempo è quello recupero più recupero meno ma allora al di fuori di quello che si pensa i calciatori per la maggior parte diciamo dei casi sono ragazzi molto intelligenti quindi l'affinità la crei anche in settimana sembra paradossale Tommy ma noi non è che passiamo tutto il nostro tempo a vedere le partite o non so a parlare di calcio sai il tempo del calcio è circoscritto al tempo dell'allenamento centro sportivo centro sportivo però già in sfogliatoio inizi a fare le cazzate con i compagni esatto quindi paradossalmente poi esci fuori vai a mangiare fuori vai al cinema e lì parli di calcio e incominci a dire guarda secondo me in settimana è meglio che usciamo in questo modo che li andiamo a prendere così gli avversari e poi in campo te lo ritrovi quindi è come se nascesse fuori dal campo questa cosa qua perché in quel momento lì tu sei quando sei al campo all'allenamento sei concentrato a fare quello che ti dice il mister a livello anche tecnico esatto anche perché ognuno deve pensare a giocare la partita successiva quindi io devo fare quello che il mister mi dice alla fine vuoi o non vuoi sono in pochi che possono permettersi di ho noto a mince sì ho sentito Bremer che dice al 50% ascolto Yuri al 50% vi faccio guidare la distintività eh ma perché hai dimostrato il fatto che puoi farlo esatto quindi questa unione questa determinazione collettiva viene paradossalmente fuori dal campo una cosa strana da spiegare a me ha sempre abbastanza scioccato vedere questi trasferimenti arriva il giocatore una settimana settimana dopo in campo che gioca con gente che è vero e più a questo aggiungi la barriera linguistica che è un'altra cosa che immagino si però che ormai sia per me ormai sdoganata si non dico però capito ti arriva il giocatore tedesco che magari è rimasto che ha poco l'inglese o un po' timido e parla poco e già lì in una settimana cioè sai come si chiama però capito guarda io ti posso dire che a me è sempre capitato di ricevere in squadra dei dei calciatori che venivano da questi paesi tipo Germania Serbia e questi ragazzi sono molto chiusi e noi italiani non è che siamo particolarmente aperti quindi per loro è molto difficile però piano piano imparano la lingua che è un fattore fondamentale anche perché la maggior parte dei mister non sa l'inglese no questo è vero c'è un sdoganato ma più o meno no io dicevo sdoganato nel senso di comunque cioè Nicky lo sa che arriva uno e quindi l'inglese comunque lo mastichi perché sei abituato ormai da anni a farlo c'è anche già al Milan c'era gente che non era né le giovanili non era italiano quindi comunque sdoganato nel senso che io sto parlando però è vero più che altro è mister almeno in Italia per me c'è questa cultura che uno fa bene e allora per 30 anni può allenare cioè tipo fa una stagione da dio sì e poi lo ripeschi magari capito continua a ripescarlo mentre vedo nelle altre parti del mondo ultimamente due ne sono usciti italiano e Dionisi che sono giovani forti bravi però in verità il resto era ok mandi via uno prendi uno che una squadra ha andato via o che ha già preso vent'anni fa è sempre stato un po' una lobby scusami adesso coraggetemi anche in Serie A mi sembra che giri no no io dico calcio italiano esatto sì sì proprio così io vi racconterai un aneddoto se posso senza citare il nome tanto al massimo noi bippiamo dopo proprio per raccontarti quanto è divertente quanto è strano e quanto è bello far parte di un gruppo e quanto questi allenatori radicati ormai sono diventati delle macchiette capito e allora quando c'è il periodo della sosta natalizia che sono? due giorni? quattro? cinque? allora solitamente è una settimana settimana però giorni effettivi di riposo nostri sono quattro o cinque perché poi torni ad allenarti e noi tutti i calciatori non vediamo l'ora che finisca il campionato quindi aspettiamo l'ultima partita come il momento del via libera tutti se ne vanno vanno in vacanza ci vediamo tra una settimana anche perché sono tutti magari di posti diversi e i mister temono quel giorno perché sanno benissimo che tutti i calciatori si preparano con valigie con roba per andare al mare montagna così e ho avuto questo allenatore che ci ha detto categoricamente prima di una partita ragazzi se vi vedo con una valigia con un borsone pieno di roba vi giuro vi faccio tornare in Pullman dove giocavo in quel momento che non posso dirlo che non possiamo dirlo ma immaginiamo che esatto vi faccio tornare in Pullman vi tengo lì e dopo vi faccio tornare indietro perché se non sbaglio con la partita giocavamo verso Como quindi era perfetto ah certo poi da lì tu sei già solo esatto e vieni a Milano invece torni non voglio vedere valigie però ci sta come paura da fatemmise perché dice mia questa partita qua ti imbrano il biglietto vabbè allora il giorno della partenza ci ritroviamo al Pullman il capitano guarda che nessuno abbia qualcosa fuori posto però erano tutti vestiti a strati 8 magliette 4 mutande vabbè tutto perfetto saliamo sul Pullman il capitano conta tutti perfetti nessuno con valigie né roba fuori posto arriva il mister si presenta con gli sci sul BMW cioè pensa a te spettacolare voi è risata voi è risata ci siamo guardati così abbiamo detto questo è scello sto scherzando però vedi queste qua sono le robe che dovrebbero essere raccontate dai caci con gli sci con gli sci ci siamo guardati tutti abbiamo detto tra l'altro una delle poche cose che loro una delle poche cose che loro non possono fare per contratto loro non possono sciare per contratto cosa è che non puoi sciare andare in moto fare sport ovviamente sport estremi moto, sci diciamo sono le cose principali vabbè lo sci per il crociato perché comunque è proprio quasi un trampolino per romperti qualcosa no ma guarda ne sono successi di colori questa è stata una di quelle che mi ricordo ti giuro io quando l'ho visto arrivare con gli sci sopra ho detto stiamo scherzando cioè ci ha detto categoricamente non vogliamo avere non voglio vedere nulla testa la partita testa la partita lui con gli sci occhiali da sole è salito in pull ma vabbè robe guarda dell'altro mondo adesso ti racconto io una per farti capire la differenza comunque di livello allora io non c'ero era l'anno prima che arrivassi in Calverate però io sono uno dei quali che si vuole far raccontare le storie niente in sostanza cioè sì io sarei tipo se venissi a giocare con te andrei da i più vecchi comunque così dai raccontami chi era più forte un po' di cazzata canta storie ogni squadra c'ha il proprio e io mi diverto e allora partita tipo salvezza comunque una roba del genere contro i primi in classifica e questo misto che poi io ho riavuto fa discorso al terzino dicendogli allora loro hanno uno forte hai capito va a 300 all'ora tu dopo due minuti le dai un calcio qua ma non ti far vedere dall'arbitro hai capito e se mi devi insultare vai la bandierina stai 10 minuti là e mi insulti e poi torni dopo due minuti calcio qua non ti far ammonire e poi se ti ammonisce mi vuoi insultare vai in bandierina 10 minuti ti immagini non lo fermo così in bandierina con gli altri che giocano il discorso sportività dai certo o lo devi segare appena entra tra caviglia eh questo è il bello delle minors no guarda c'è stato un altro esempio che vi racconterà anche questo un altro allenatore ne ho avuti tanti quindi potremmo stare con tutto il giorno chi è che hai avuto se posso fare il conto allora tu sei salito al Milan con Gattuso Montella Montella poi ho avuto Gattuso poi ho avuto Stroppa poi ho avuto Zenga poi ho avuto Cosmi poi è tornato Stroppa poi ho avuto Oddo poi è tornato Stroppa guarda ho avuto Modesto Marino Modesto di nuovo ne ho avuti tantissimi e adesso abbiamo venturato a Ferrari ti piace? sì 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 devo dire sto giocando tutte le partite no comunque sì sì ma mi sono trovato bene con tutti gli allenatori ognuno era speciale a modo suo ho avuto uno una volta che per motivarci ci è venuto a dire che Ronaldo il fenomeno guardava le nostre partite quando me l'ha detto sono stato male no una roba assurda lui in pratica ha dato una premiazione e è tornato poi in spogliatoio con il suo premio proprio per motivarci se era un periodo che non andavamo molto bene ci ha detto ragazzi ho parlato con Ronnie come fosse suo fratello con Ronaldo il fenomeno e mi ha detto mister io guardo tutte le vostre partite ci dovete credere ci dovete credere perché siete forti e poi la frase iconica che ha fatto morire tutto lo spogliatoio stavano scendendo i muri nella sala video è quando Ronnie gli ha detto al mister ma mister sei già concentrato sulla partita di domenica e il mister sai cosa gli ha risposto no Ronnie sono concentrato sull'allenamento di domani mi ricorda l'imitazione di buffa spettacolare però dopo ti dirò chi è questo qua perché quando lo senti impazzisce lui è stato penso uno dei più degli allenatori più iconici della serie A ci sono video su video anche perché anni fa aveva rivoluzionato un po' il campionato italiano all'inizio dell'anno 2000 devastante un bravo allenatore lo salutiamo mentre Niki parlando di Milano com'è stato dal punto di vista sociale non di campo il trasferimento a 20 anni no quant'è che ne avevi 19 e 20 eh sì avevo 20 anni Tommy puoi immaginare io ho vissuto a Milano con tutti gli amici a Milano e andare a Crotone che non è proprio a due passi è stato difficile è stato difficile ma allo stesso tempo è stato bellissimo perché impari a fare tante cose che altrimenti non non riusciresti a fare è la prima volta a vivere da solo prima volta a vivere da solo e le cose più pratiche la lavastoviglie la lavatrice cucinarti la lavatrice tu che poi io ho un giro di lavatrice che non posso mettere più cioè ho messo dentro i pantaloni l'altro del Raya eh bermuda sono diventati eh pinocchietti grazie a te c'è un po' d'orlo perché quando torno li faccio scucire dico per favore tu lo sai sai alla fine non è facile vivere da soli comunque è comodo a volte tornare a casa quando sei stanco avere tutto pronto bello infatti io quando tornavo a casa non vedevo l'ora di stare una sera con mia mamma e mio padre perché sapevo che non dovevo fare niente anche solo il fatto che qualcuno magari ti chieda come è andato l'allenamento esatto o una coccola che anche non sia fisica magari sulla parole proprio così proprio così e poi sei molto lontano sai se giochi come adesso io gioco a Ferrara un'ora e mezza con il treno arrivo a casa mentre lì dovevo aspettare magari i programmi i programmi proprio oh allora qua gioco esatto oh dopo due giorni libero banalmente l'aeroporto più vicino guarda c'è l'aeroporto a Crotone ma è più piccolo di quello di Miconos cioè è grande così sì Miconos in 30 secondi Crotone no ci sono magari tre voli a settimana e devi sperare che il mister esatto che ti vada bene faccia coincidere tutto e secondo te a me lo tengono in considerazione i mister qualche volta io avevo un mister che era di Milano facevo in modo sempre di farci prendere l'aereo però c'è sono altri che invece magari abitano lì vicino al posto in cui giochi non gli passa neanche per la testa esatto e le Crotonine? ma Crotone come in tutto il mondo diciamo la gnagna cioè pulula soprattutto l'estate la classica mediterranea esatto la bellezza mediterranea più pilo per tutti bello bello no Crotone mi sono divertito tanto quanto hai fatto? ho fatto quattro anni e mezzo perché è andato via a gennaio quest'anno esatto ah ok sei appena trasferito sì mi sono appena trasferito però era andato lì a gennaio anche là no? sì però adesso sono andato diciamo via non proprio a gennaio sono andato via i primi giorni di febbraio io dico quattro anni e mezzo perché sono quattro stagioni e mezzo però temporanealmente come dici tu sono 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 quattro stagioni sono scusami sono quattro anni quattro anni spaccati ma quattro stagioni e mezzo sì sì e guarda dovevo andare alla mezzia terme a prendere l'aereo c'era una strada che sono tipo 50 kg ho presente l'abbiamo fatta questa estate e passi in mezzo a tutti di i paesini dell'andrangheta passi sì no sotto di te accadono cose nei bunker che non capisci e non puoi immaginare questa estate prima di partire questo nostro amico doveva attarare all'aeroporto di Reggio che piglia fuoco spiegabile sì è vero l'ha sempre qualcosa per cui lo cambiano noi vediamo ci manda la cosa non so perché ci ha mandato la posizione no su tipo quelle applicazioni in cui vedi le rotteglie eri esatto questo aereo che è andato da un'altra parte o l'hanno dirottato oppure è successo qualcosa niente atta era la mezza per cui andiamo alla mezza sì ma no la macchina segnava una roba come 47 sì ma poi lui l'ha fatto cioè dalla mezza ha ripreso un aereo era vangiametto Mickey scende alla mezza e non rompere lui scende alla mezza ma la valigia rimane sull'aereo l'aereo nel frattempo ridecolla per andare a Reggio perché alla fine avevano spento alla fine avevano risolto ah quindi è potuto ripartire no quindi lui è venuto in macchina ma si hanno dovuto andare lo stesso a Reggio per prendere la valigia questo è bello del sud una volta io quando dovevo atterrare a Crotone c'era un vento incredibile sì allucinante e c'era il mister che sapeva che non poteva arrivare all'allenamento e guardava la rotta dell'aereo poi me l'ha mandata c'era l'aereo che ha fatto 5 giri intorno prima di atterrare io sono rimasto sconvolto dal dallo stretto sì a livello di correnti e di vento il phon caldo acceso ma scusa ma dov'è Crotone? Crotone non è diciamo verso la Sicilia esatto è più verso la Basilicata? esatto più verso la Puglia insomma questa zona qua e diciamo c'è Reggio Calabria che poi è vicino allo stretto noi siamo più in su diciamo più verso Milano e se mi dovessi dire un aneddoto di un di un tifoso del Crotone che ti ha beccato in giro e te lo ricordo una roba del genere ma allora in giro devo dirti che sono tutti molto cordiali anche i leoni da tastiera insomma che scrivono così poi quando ti incontrano dal vivo sono anzi ti gira ancora più il cazzo forse sì però ad esempio ieri che c'è stato a Spal Crotone mi sono arrivate cinque chiamate alle cinque e mezza del mattino no sì un trast del Crotone pezzi di merda ex esatto e mi hanno chiamato per svegliarti e io mi sono anche messo a ridere ieri e poi ho spento il telefono così e poi mi hanno richiamato dopo la partita gli ho risposto e si sono messi a ridere perché comunque io e poi uno a uno comunque andava bene a tutti e due io non è che mi sono messo a insultare anzi mi sono messo a ridere perché ho detto cavolo ti è venuto in mente di chiamare alle cinque e mezza e rideva pure lui e poi alla fine è molto amichevole sai eravamo abbiamo fatto Pasqua con Rove e eravamo lì salutiamo Rove ciao Rove ci vediamo presto ci aspettiamo ecco lì era l'esempio del tipo rompicoglioni eravamo lì cazzo eravamo lì a fare quello di a Dani quello a livello di servilismo ah sì a fare il video così come dei deficienti è passato il classico genovese uè Belin Rovella ma che c'è il derby il derby tra due settimane è uno dei più bravi infatti mi ha detto che a lui non rompono tanto le palle perché comunque adesso è infortunato è giovane ci manca solo però mi ha fatto morire che eravamo lì a fare il video uè Rovella Rovella ma che c'è il derby no guarda l'unica volta che anche lì è successa una cosa paradossale è stata a Crotone era mi ricordo aprile noi eravamo quasi già retrocessi però giocavamo in Serie A sai non è facile giocare contro tutte queste squadre passo con la macchina io ho la macchina decappottabile passo con la macchina aperta occhiale da sole bella vita tutto tirato pronto di solito ti salutano tutti allora ho sentito uno che fa Zanella allora io mi giro ciao e lui mi fa ho fallito bravo bravissimo io l'ho guardato così ho fatto partono bottiglie però dai fa parte del gioco io che lo salutavo e lui ho fallito ho tirato sul tettuccio e sono tornato di corsa a casa beh la sparsa è partita col botto partito assist prima partita seconda nelle prime tre partite ho fatto due assist lancio lancio devastato è colombo a Melchior anche a Colombo avevo fatto un paio di assist però non siamo riusciti a segnare figata l'ha mangiato perché è importante per un centrocampista fare assist cioè tu che sei come mai centrocampista a me rompono i coglioni oh non segni mai io non ho ancora segnato in Calvairato no ma perché comunque comunque sono mediano dai lo so Nigel De Yoga se non fa gol nel derby di testa non mi ricordo nessun gol dai quando fai gol tu faccio io il mio primo gol con la spada in concomitanza va bene sarebbe fantastico mi tagliare vieni qua Johnny anche tu fai gol in discoteca fai gol io faccio un sacco di gol lui mi manda i video io magari il sabato mi manca la doppietta però oh io il sabato il sabato vado a letto perché comunque non è che vado a letto però mi piazzo in casa dalle 11 mi guardo un film magari vado a letto a luna luna e mezza tranquillo rilassato mi sveglio giorno dopo e gioco vedo mi alzo la mattina dopo lui alle 6 di mattina discoteche con le vetrate sull'attore Eiffel sono quelli che odio io quando magari c'è l'allenamento alle 7 del mattino che io apro Instagram e leggo un'ora fa sì due ore fa siamo andati a dieci minuti fa siamo andati a Pasqua ci siamo beccati io e lui in treno alle 8 mi sono svegliato alle 7.10 guardo Instagram Dima storia quattro minuti no dieci minuti fa gli rispondo bastardo e lui odioso ah stai partendo ma sei ancora cioè io mi sveglio tu sei ancora sveglio ci vediamo tra sei ore guarda quelle sono le cose peggiori quando siamo in ritiro sotto il sole che ti devi svegliare presso i due allenamenti e vedi la gente che mezz'ora fa era al Samsara Gallipoli a ballare così dovrò vero le brezza quest'estate che devo lavorare esatto però è bello il ritiro cioè il ritiro è fatto cioè essendo coi compagni comunque sei mentalmente preparato alla cosa che devi fare ti pesa meno ti pesa meno perché hai compagni esatto se non ci fossero loro sarebbe sarebbe una merda cioè se fai il ritiro da solo quindi solo dal punto di vista atletico senza gli scherzi quelle robe lì non lo fai cioè trovi un modo per non farlo no 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 è una roba assurda anche perché corri il ritiro cioè ti fai il fondo per tutta la stagione tra l'altro scusami tu iniziavi prima però io mi ricordo le prime estati che hai fatto alla calva iniziavi molto prima no non molto prima beh 10 giorni prima tutti mi ricordo adesso adesso noi iniziamo a 17 ma solitamente io mi ricordo ad esempio beh ma lui inizia inizio luglio pensa che inizia inizio luglio tu sei serie A B o C io adesso sono in serie B ma serie B serie A serie C più o meno iniziano tu ma perché è il momento in cui inizia il campionato che conta si inizia tutto la stessa domenica si regalano le altre diciamo serie D un po' più magari un po' più tardi eccellenza sì noi siamo tardi sopra eccellenza ha vinto la Varesina scusami ho un amico che gioca lì nella Varesina si chiama Tomasini coglione lo conosci? ah sì andiamo al mare insieme sì sì non ha giocato però però c'era anche il padre al ritorno sì cosa avete fatto? all'andata da loro 3 a 1 o 2 a 1 per loro al ritorno 4 a 2 no non mi ricordo vabbè comunque ce l'andate vabbè ma loro a parte Spada Vecchia in Porta no non li conosco Spada Vecchia faceva il secondo in Agile al Bari ah non lo sapevo poi magari la bippiamo ma lui è stato squalificato per calcio scommesso quindi poi adesso fa solo fai il campione nelle categorie nostre 35-40 anni portiere saranno una brand non fai mai gol ogni palla alta è sua comunque ti arriva c'ha un piede che ha 60 metri ti mette sul piede cioè loro impostano se li vengono a prestare alti fa il magnante la situa è una bella squadra io ho visto vabbè ha fatto la squadra per salire è bello adesso va in Serie D speriamo che l'Ale giochi perché ho visto che quest'anno però quando noi siamo andati lì all'andata che io mi aspettavo che giocasse era perché ne avevamo parlato bene cioè io che bel giocatore io non pensavo fosse là però allora mi hanno detto questo giovane è forte lui è 2003 anche a te vedo che metti qualche bella palletta col tuo amico Sante subito nicchia il capo lui è devastante io ho imparato veramente tantissime cose da lui è quel classico giocatore che lo vedi proprio che legge la giocata intelligente sì la legge avanti anche perché avrà fatto 1250 partite comunque a 38 anni 18esimo anno forse 20esimo in prima squadra quindi cioè l'avrà vista come dicevano prima in memoria cioè l'avrà vista talmente tante volte che sai già come va e quindi io cioè di fianco a lui in mediana più facile per merito o no comunque ho imparato e in più fuori dal campo come dici tu è dove veramente si crea la squadra e noi siamo sempre insieme è veramente figo come un ormeggiatore che ha già ormeggiato 100.000 bar esatto il mio sogno un po' rimarrà il mio sogno se vuoi un tirocinante la prossima volta vengo io allora adesso diciamo serata la sera dobbiamo invitarla a panarea e beh io ci vengo volentieri anche fuori stagione è strabello no meglio fuori stagione anche perché lui in stagione conto che le nostre vacanze sono a maggio e a giugno quindi più fuori stagione di così ci sono settembre e ottore no è andata bene col covid quando c'è stato il covid minchia prima estate prima estate mamma mia c'è roba che se lo dici così ti radiano scusate infatti no dicevamo per le vacanze però è stato bellissimo fare le vacanze ad agosto cioè io non ho mai provato questa ebrezza di fare le vacanze con la gente beh guarda che lui già da quando era nelle giorni di milan immagino poi a parte che inizi prestissimo io andavo al mare 16 anni sai già che andavamo al mare nello stesso posto e lui già quando aveva 14 15 anni non c'era quando io arrivavo e gli sacrifici di cui parlavamo queste cose qua sai tutti se le dimenticano però cazzo io non volevo mai andare via da Tortoretto e infatti ogni volta che aveva due giorni tornava subito tornavo vedevi mancava da un mese a ferragosto oh Nicky spunti all'improvviso sul lungomare ecco una figata di Nicky è che ha continuato a fare niente le presenze fa niente la categoria ogni volta che arrivava a Tortoretto continuava a giocare con tutti sulla sabbia come se vero vabbè poi ovviamente come se il cazzo perché lo vedevi due metri di Cristiano che rovesciava da 50 metri sotto l'incrocio beach soccer è lo sport più bello di tutti bellissimo e anche più faticoso devi saperlo giocare madonna mamma mia completamente diverso lui era 98 ok quindi era due anni più grande sarà ancora ed era no sì dico da piccolo era perché non conta adesso che comunque siamo tra virgolette tutte e due grandi ma all'epoca c'è uno stacco anche perché lui ha visto quanto è alto io ero così con le gambe così lui era così con le gambe così con le gambe così ma guarda che Tommy era tanto cioè tanta roba ci mettevano la leggenda è il beach volley sì beach volley beach volley beach soccer poi giochiamo anche a beach volley giochiamo a tutto in quel posto sì ma quello per le fighe vero lui si metteva o in porta o fuori e faccia giocare noi bambini oh ma dovevi vedere sotto il sole coccente bellissimo troppo bello io tuttora quando scendo giù gioco sempre a beach soccer troppo divertente bellissimo facevamo i rigori mamma mia che bello c'erano le porte che erano grandi così c'erano le porte alla capannina grandi così non si poteva far gol era impossibile in acciaio tipo in acciaio che erano argento e poi le ha messe grosse e grosse tipo a undice figo quest'anno la figata è che puoi volare quanto vuoi cioè io faccio io faccio solo rovesciate perché niente non ti fai mai male e poi più ti riempi di sabbia e più è bello fare il bagno al tramonto lì che galleggi già che il mare di Tortoretto è il mare che è di questo colore guarda no dell'acqua ma il colore dell'etichetta se tu entri e l'acqua sotto le ginocchia non vedi i piedi cioè tipo un forte come colore ma peggio peggio però è un posto spettacolare bellissimo no devi capire il mood ma si vabbè ma poi anche il posto lo fanno le persone esatto 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 ho divertito un sacco mamma mia io non vedevo l'ora che scendesse lui che ci divertivamo con mio cugino anche Boverino a calcio importa però lui vedi si è preso benissimo quando 4-5 anni fa anche 6 è uscito beach tennis che è uno sport fighissimo è tipo come si chiama quello non usi la rete da volley no non è padel no non padel c'è quella specie di è presente quello che gioca tipo la pilota c'hai la racchetta con la stecca stralunga e poi c'hai volano bravo paddinton paddinton ecco no badminton badminton no 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 è rete da non volley un po' più bassa bella tesa e tu cioè in sostanza la rete ti arriva qua e tu hai la racchetta da racchettoni però in verità sono fatte apposta con la pallina da racchettoni no con la pallina da tennis un po' più sgonfia è devastante ti devi buttare è pesante e Dadi si è preso benissimo quindi da un giorno all'altro ogni mattina lui alle 8 vestito da perfetto no guarda mio cugino è un disastro però in quello sport lì è stranamente bravo cioè conta che mio cugino riesce a fare gli incidenti sul lungomare di Tortoreto andando a schiantarsi contro non c'è nessuno non so come fa tutti in bici mamma mia guarda una roba ma quello è la magia di quel posto beh ma lo capisco io a parte che giocava a rugby però anche a calcio no è ho fatto giocare a rugby perché poi quando sei piccolo che fai 6 sport certo fai nuoto fai calcio fai rugby poi magari c'hai cazzo un'altra roba poi devi scegliere l'anno dopo esatto 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 no ma noi abbiamo sempre incluso tutti su questo fronte cioè piuttosto facevamo uno sport inventato ma per far giocare tutti i problemi perché mio cugino è proprio scordinato ecco il problema sì non quella è natura capito esatto a sciare però ti immagini che arrivano i due i due cugini ecco però dadi è un gran scopatore mio cugino su questo è superiore ma è il suo sport ha scelto lo sport giusto eh cazzo bello sport bello sport però facciamo rire tutte e due riccioli biondi si suda eh uno andava nel campo è fit fai un sacco di cazzo aerobica bello bello raga dadi è il figlio dell'alessandra dell'aziale ah ok che magari ci sta pure sentendo speriamo poi ti interroghiamo dadi oh bellissimo guarda poi ci manda il body count quando voglia così adesso voglio farti voglio farti una domanda vai allora un giocatore per ogni top 5 campionato in Europa partiamo dalla serie A dai vai ma un giocatore puoi dire quello o più forte con cui hai giocato contro o con cui hai giocato o se vuoi entrambi e eh quello che invece ti sta impressionando ad oggi allora il giocatore più forte contro cui ho giocato è Brozovic eh Marcello Brozovic giocatore incredibile fa tutto bene è intelligentissimo corre come un pazzo corre come un matto abbiamo giocato a San Siro l'anno scorso e c'è proprio un'altra categoria fortissimo e il giocatore con cui ho giocato invece eh secondo me il giocatore pazzesco è Unas Minchia 2000 all'ora Unas a Crotone devo dirti che Cosmi aveva detto alla prima partita appena appena ha preso vincono e lui fa no ma io non so come questa squadra possa essere ultima hanno dei giocatori clamorosi tipo Unas che giocatore è Unas e diceva il giornalista così no pensa che il nostro allenatore Cosmi quando Unas ha fatto gol si è girato verso il pubblico e ha iniziato a fare che gol così si toccava i capelli i capelli la testa e facciamo così e lui se l'avessi messo nel Milan quando giocavo nel Milan poteva giocarci tranquillamente tipo Suso come giocatore sì ma veramente fortissimo secondo me e in Spagna ti dico Pedri o no cioè Pedri è una classe io sono un po' più Gavi è anche Gavi anche Gavi però a me Pedri piace perché non è che ha una qualità particolare cioè lo vedi non gli dai due lire esatto cioè questo fa l'ormeggiatore cosa potresti dire cioè non veramente guarda fisicamente è normale però è intelligente e poi 2002 poi 2002 parliamo di un giocatore top 2002 17 anni no 20 18 20 20 anni 20 anni 20 anni però comunque parliamo di di giocatore fenomenale deve fare capito se nel 2022 ci avrà 20 19 anni prossima puntata lezioni matematica con Giovanni ma guarda ma tu parli non lo so lui è bravissimo bundes bundesliga quello che hai citato tu devo dirti che non è male il buon Bellingham perché elegante tecnico fa gol è migliorato tanto io adesso ho visto recentemente un'altra partita è veramente forte secondo me mentre in dove andiamo adesso in Francia dici Bellingham vabbè ti direi Alan è figa ti direi Alan però Alan è troppo scontato hai capito cioè è un fenomeno no poi mi piace che mi continui a dire che è centrocampistio Francia e Spagna si e Inghilterra no Spagna l'ha detto Spagna abbiamo detto Pedri esatto e Inghilterra ah vabbè io vado sempre sui centrocampisti esatto perché ti giuro io guardo loro De Bruyne De Bruyne è fortissimo però è troppo scontato mi piace questa roba qua a me piace un giocatore del Liverpool che si chiama Elliot bello forte è quello che si è rotto si è rotto lui è veramente veramente forte e secondo me lui nei prossimi anni sarà tipo Gerard hai capito come giocatore non così fisicamente prestante però veramente veramente bravo mi piace molto a me dell'Inghilterra mi faccia morire quando abbiamo fatto la finale dell'europeo che c'era il pirlo di come è che si chiamava il centrocampista che si chiamava Jude di Inazuma Eleven aspetta aspetta quello che giocava nel Leeds bravo non me lo ricordo vabbè che l'aveva che l'aveva chiamato il pirlo del ma vaffanculo mentre mi aveva impressionato Declare Rice che comunque non mi piace come giocatore ma è fatto un cazzo di gran europeo e francese ci stava a dire Camavinga però è andato via Camavinga ti giuro mi fa impazzire elegante sembra Viera a me ricordo Viera e giocatore in Francia ti dico Verratti cioè Verratti è una roba incredibile poi è lui è abruzzese poi lui è abruzzese esatto così abbiamo chiuso il cerchio abbiamo citato anche tutta l'Abruzzo guarda oh lui ha fatto dalla serie B Pescara al PSG diretto esatto grazie a Ancelotti non ha mai giocato in serie A grazie a Ancelotti non sapevo questo mai una roba camoroso è talmente bravo una roba simile è successa tipo a Zagnolo che non aveva mai giocato in serie A ed è stato convocato in nazionale pazzesco se ci pensi perché in nazionale di solito vedi beh certo io ho visto un gol in nazionale under 21 di qualcuno qua seduto al tavolo sicuramente non è un ormeggiatore sicuramente non è una calvairate bello bello dai poi under 21 non fai tante partite perché giochi una tantum quindi non lo vivi benissimo il rapporto con la squadra non è come la squadra di club non c'è una cioè non hai tipo gli stessi concomitanza con eh ma sono talmente tanti giovani che comunque li provano esatto cioè la prima squadra c'è una struttura no ce l'ha certo certo c'è anche quello c'è il mondiale ci sono le olimpiadi che ti giuro quelle sono fighe da fare la cosa che sperando che i miei compagni che adesso sono più piccoli di me quelli che possono partecipare diciamo alle convocazioni dell'under 21 se si qualificano tu puoi andare alle olimpiadi possono andare anche dei fuori quota è perché sono quelli che hanno fatto già le qualificazioni cioè se tu fai under 21 quindi tutti i quali sotto il 21 in verità però se tipo ci sono le qualificazioni ci sono le qualificazioni alle olimpiadi e lui in quel momento è sotto i 21 anni quindi gioca in under 21 e fa qualche qualificazione nel momento in cui c'è l'olimpiade anche se lui è fuori esatto esatto e quella è una cosa che farei super volentieri il villaggio olimpico no le olimpiadi sono per me per lo sport la cosa più bella di tutti per un atleta diciamo ma io mi guardo le olimpiadi e c'è una pagina su youtube che vi consiglio che si chiama cerchi di gloria che per ogni italiano che ha vinto comunque ripercorre la carriera che bello oh ma ragazzi mi vengono le lacrime agli occhi bellissimo ve lo giuro l'olimpiade è come il mondiale un po' più della champions vedo proprio il cioè entri nell'olimpio capito tutti accorgi che entri nell'olimpio anni fa in grecia è una cosa completamente diversa c'è anche uno che non sai e poi sei miglior al mondo cioè se sei miglior all'olimpiade sei miglior al mondo cioè per esempio dell'atletica quando uno vince il mondiale quasi non è cagato in confronto a quando vinci l'olimpiade è comunque mondiale no 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 incredibile mi immagino già che finisco gli allenamenti vado a vedere la partita di Diokovic poi vai a prendere il caffè vicino a Phelps vabbè che non fa più le olimpiadi però magari nel team no ma magari nel team c'è l'allenatore o con la Pellegrini c'è robe assurde bellissime Buffa che tu hai citato prima aveva detto che raccontando Michael Jordan disse che la prima olimpiade di Michael Jordan per lui fu pazzesca mi sa 88 perché poi hanno fatto il Dream Team nel 92 quindi deve essere 4 anni prima 88 ed era per lui pazzesco perché lui poteva scambiare le spille cioè ogni giocatore aveva tipo 20-30 spille e quindi la potevi scambiare con quello della tanzione poi l'han tolta questa cosa qua e quindi lui dice anche se nel 92 ha vinto l'88 è più legato capito io vorrei concludere chiedendoti cosa ti aspetti da questo fine stagione e dalla prossima cioè se sei uno che comunque pensa ad alzare l'asticella al lavoro o comunque magari a fine stagione si goda un attimo come la vivi allora sicuramente tomi in testa un obiettivo più grande ce lo devi avere perché sennò rimani sempre galleggiando su quella linea sottile insomma non va bene devi avere sempre uno stimolo anche eccessivo tipo io ho compagni che ti dicono io vorrei fare i mondiali tra 4 anni la roba che adesso giochi in serie B e dici come cazzo faccio però devi vivere con queste aspettative ma il che vada poi non fai i mondiali però comunque se più punti in alto e più nel momento in cui magari qualcosa non va bene sei comunque già alto e quindi ti puoi adeguare poi dopo conta che noi facciamo veri e propri corsi di mental coaching sono cose che non si sanno insomma in generale quando guardi le partite nessuno ti dice queste cose però soprattutto negli ultimi anni a livello mentale molti calciatori lavorano su questo e ci dicono che devi mettersi in testa obiettivo che deve essere quanto meno raggiungibile concreto non può essere ipocrita insomma e immaginare di vincere il pallone d'oro proprio perché questo ti spinge a raggiungere il massimo delle tue potenzialità e parlando di me come mi hai chiesto tu io vorrei tornare a giocare in serie A questo è il mio obiettivo principale e in qualche modo ci devo riuscire non è facile perché comincia a diventare più grande sei anche magari sfortunato che la squadra non va benissimo però questo è il mio obiettivo naturalmente ci dobbiamo salvare prima perché quest'anno io sono arrivato alla spalla e la situazione è abbastanza drammatica però insomma questo è il mio obiettivo principale poi un domani che ne sai che magari torni a giocare nel Milan quello sarebbe perfetto giochi nella squadra della tua città vivi a Milano la tua squadra ma tu ti sei io sono in lista cioè sarebbe proprio un sogno e uno ci deve credere ma proprio deve essere convinto di questo perché alla fine il livello tra un giocatore di Serie A e di Serie B vi assicuro non è così grande sì sarà anche una questione di circostanze il contesto per dirti adesso non è una cazzata se Tommy venisse ad allenarsi alla spalla magari il primo mese i primi due mesi i primi tre mesi fa difficoltà ti devi abituare poi appena ti abitui puoi veramente giocare è così in Serie A soprattutto per un centrocampista esatto perché comunque il centrocampista è proprio intrinseco alla squadra è il ruolo più difficile l'esterno se è forte gli dai palla in qualsiasi squadra gioca magari te scatta uno la metti sotto l'incrocio bravo se sei un giocatore tecnicamente normale un giocatore intelligente e che non si fa male spesso con consistenza e continuità esatto puoi giocare benissimo nella categoria sopra di te certo hai bisogno di un mister che ti dà dieci partite per abituarti capito se per sbagliare dopo dieci partite se insomma non sei un cretino che continua a fare le stesse minchiate abbiamo fatto tu conosci Dima mio amico certo Dima lui adesso gioca al club Milano abbiamo fatto la partita abbiamo rotti i coglioni a tutti oh ragazzi c'è si è fatto espellare due partite prima non ci credo gli hanno dato doppia giornata per proteste ha saltato la mia io sono stato uno dei migliori in campo abbiamo vinto lui non mi ha risposto per due giorni veramente però era una partita non so come dire da quella partita lì sarà tardi però io da quella partita lì ho capito proprio che nel momento in cui era una partita fondamentale cioè ci dobbiamo salvare quindi era da dentro fuori praticamente mi sono talmente tanto concentrato tutta la settimana sia per il fatto che comunque avrei rosicato o perdere contro di lui sia per la situazione in generale che ho fatto una partita proprio top e l'ho riconosciuto finisco la partita mi arriva un messaggio su facebook e poi una chiamata il giorno dopo da una squadra pugliese di Lega Pro veramente? andrò no cioè io non sono mi conosci ho già fatto la mia scelta di vita però la cosa che ha detto lui la cosa che ha detto lui me la ritrovo ovvero cioè per un poi io lo dico per il centrocampista perché faccio quel ruolo lì e quindi devi essere in linea con la tua squadra devi avere degli automatismi un sistema dove giocare che magari è consono le tue capacità ma come ha detto lui è solo circostanza allenamento cioè è l'abitudine di stare in un contesto del genere dei ritmi del genere con dei tempi del genere tutto così ma come in qualsiasi lavoro cioè a me per esempio parlavi prima dell'ambizione io quest'anno all'estero mi ha fatto un bellissimo discorso cioè sono reso conto di poter ambire a qualcosa di continuare a salire diciamo così guarda il calcio alla fine è un lavoro come tutti gli altri le dinamiche sono sempre quelle conto che a noi ci fanno studiare delle lezioni di Ford quindi che non c'entrano niente con l'ambito del calcio in cui appunto ti fa vedere come il calcio come qualsiasi altro lavoro vive degli stessi automatismi quindi questa è la cosa bellissima ma Ford ve lo fanno fare per gioco di squadra perché lui non è quello che ha fatto la cosa catena lui è stato un innovatore pazzesco in quell'ambito lì tra l'altro Ford e Tesla sono le uniche due aziende di automobili che non sono mai fallite in la storia americana adesso Ford è un fenomeno molto più esatto perché cazzo cioè comunque adesso non vorrei dire una cazzata però penso 1800 qualcosa non saprei dirti esattamente sicuro perché ha fatto la rivoluzione industriale però ti giuro che sembra una cazzata ma studiamo anche tutte queste cose qua poi molti ragazzi fanno l'università io ad esempio faccio l'università e grande la zia Sara sono stato obbligato a fare no scherzo però comunque mi aiuta anche a giocare meglio a fare l'università cioè studiare avere la mente libera no 1903 1903 fatturato 156 miliardi è come il vostro podcast esatto noi siamo a 156 centesimi sotto sotto comunque bravi bravi comunque se tu pensi che il suo stile di direzione è in vita ancora oggi ti fa capire quanto era centrato anche a quel tempo insomma io spero di fare un back to back tra un anno due o tre quando torni in Serie A volentieri volentieri dai sarebbe bello e speriamo che anche per voi insomma sia tutto un crescere gli obiettivi ce li hanno tutti io ce li avete voi beh tra l'altro uno dei nostri obiettivi era cioè anche solo segnare un ospite è un obiettivo da raggiungere bravi noi con questo nuovo setup abbiamo raggiunto un bello obiettivo si guarda siete proprio bravi io adesso lascia stare che sono ospite come se fossi suo fratello io a te non ti conoscevo però li seguo veramente con con frequenza cioè mi piace e lui ci seguiva anche quando faceva anche gare in microfono madonna lì perché sai magari non li guardavo tutti però comunque sempre guardate gli spezzoni dei vostri podcast dei vostri appuntamenti allora io colgo l'occasione per scusarci no sì per scusarci per i primi sette sei sei episodi ci scusiamo ci scusiamo no perché comunque come hai detto tu l'ambizione o segnali su un obiettivo è fondamentale ok nel momento in cui tu però vedi che il prodotto che stai offrendo non è all'altezza di quello che è non ti soddisfa è la cosa più brutta di tutte cioè il non riuscire a vederlo perché ti dà troppo fastidio è brutto infatti noi abbiamo proposto a tutti gli invitati delle prime sei puntate di ritornare e fare tipo una roba insieme ottimo bello bello bella idea comunque poi vi siete corretti cioè no serviva serviva un investimento economico che a quel momento non avevamo cioè del tempo per tutto esatto non penso che nemmeno Ford abbia subito fatto no 156 miliardi era all'epoca il fatturato vi salutiamo grazie a Nicolò grazie a voi ragazzi è stato un piacere forza spal forza spal sempre e come la calverate un unico obiettivo che ho citato ah no ultima cosa mi voglio bene ultima cosa mi aveva fatto morire quando Nico girava col Milan a fare le tour estivi con le robe lì che mi faceva impazzire quando tornava e mi raccontava perché comunque io mi ricordo a 17 anni lui è tornato a Milano abbiamo fatto la cena a casa sua e c'aveva la maglietta di Lam di Lam bro appena appena scambiata con Lam cioè Lam tanta roba Lam campione del mondo campione d'Europa vabbè così e mi fa appena scambiata con Lam poi di qua poi di là mi faceva vedere le magliette mi ha fatto morire che Ousmane Dembélé che adesso gioca al Barça che era al Dortmund per tornare alla cosa del Dortmund che fa partire i giovani lo becca nel tunnel post partita e gli fa una foto voleva voleva la foto con lui perché era uguale a Rabiot che è suo amico e Rabiot adesso è quello che gioca la Juve alto riccelo così ci assomigliamo è vero infatti e mi ha fatto morire dopo la mettiamo in fondo al post se ce l'hai la mettiamo così perché c'è Dembélé fa così e tagga Rabiot è veribile è stato bellissimo bravo che me l'hai ricordato me l'ero quasi dimenticata proprio lì ho detto che figata bello veramente bello un bacio ciao ragazzi alla prossima ciao grazie che bomba che bello ragazzi dai sei piaciuto che bello